90 minuti domani pomeriggio e poi altri 180 successivamente. Sta per arrivare il momento della verità nel campionato di eccellenza, ma incerto, appassionante ed aperto a qualsiasi soluzione come quest'anno. Quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare, infatti, tutti i giochi sono aperti. Fasano, Avetrana, Gallipoli e Casarano sono in lotta per la promozione di rette in Serie D. US e Bitonto, Omnia e Bitonto, Corato e Bigortrani per un posto nei play-off, o Trento, Barlette, Ognone Calcio, Biceglie e Novoli vanno a caccia della permanenza. Tranne Molfette e Bieste, Giassalve e Galatina, già retrocesso, le altre sono tutte in ballo per degli obiettivi. Si riparte domani alle ore 16 dopo la lunga sosta per il torneo delle regioni e per le festività pasquali. Si comincia senza scontri diretti tra le prime quattro, ce ne saranno addirittura tre nelle ultime due giornate. La capolista Fasano non dovrebbe avere problemi a vincere contro un Bieste che ormai non ha molto da chiedere a questo campionato. Rischiano certamente di più le principali antagoniste della prima della classe. La vetrana affronta in trasferta l'Unione Calcio-Biceglie, a cui servono punti per uscire dalla zona play-out. Il Gallipoli ospita un Corato in serie positiva da 13 partite che si gioca le ultime possibilità di rincorrere il quinto posto della classifica. Non avrà problemi a vincere invece il Casarano, di scena in trasferta contro la Cenerentola Galatina. Tutta da seguire, anche la lotta a play-off. L'OS Bitonto, a secco di vittorie da diverse settimane, ospita l'Otranto al Città degli Ulivi. L'Omnia Bitonto, reduce da otto risultati utili consecutivi, fa visita al Molfetta sul sintetico di Terlizzi. La Vigortrani riceve il Novoli ed è obbligata a vincere per restare in scia del quinto posto. Le attenzioni dei biancoazzuri di Massimo Pizzulli, in ogni caso, sono concentrate anche e soprattutto sulla doppia semifinale di Coppa Italia di Lettanti contro l'Unipo Mezzia. La gara d'andata si giocherà mercoledì prossimo al Comunale, il ritorno sette giorni dopo nel domicilio dei Laziali. In palio ci sarà la finalissima della fase nazionale. Punti salvezza in palio infine nella sfida tra Aradeo e Barletta. Una vittoria sulla terra abbattuta dei Salentini consentirebbe di porre una serie a ipoteca sulla conquista della permanenza senza play-out ai Biancorossi che la domenica successiva avranno altri tre punti assicurati nel match interno con il Galatina.